Il mio nome è Serena Coccia, Podere Castellinuzza e sono responsabile insieme a mio padre della nostra azienda. La filosofia della nostra azienda è sempre stata la cura attenta e scrupolosa della qualità. Si nasce dal coraggio e dalla lungimiranza. Noi abbiamo acquistato la nostra azienda negli anni 60, abbiamo preso in mano questa azienda, l'abbiamo portata a questo piccolo podere, è diventato molto conosciuto e importante nel panorama vinicolo internazionale. Siamo molto contenti di questo. Siamo nella unità geografica aggiuntiva più piccola e più alta del Chianti Classico, che è l'Amule. Abbiamo vigneti terrazzati ad alberello di circa 150 anni. Siamo nelle braccia del Monte San Michele, il monte più alto del Chianti Classico, da cui passa esattamente la linea sacra di San Michele, che è una linea immaginaria che unisce dei punti molto distanti fra loro, che vanno dalla Terra Santa all'Irlanda e passa esattamente sul Monte San Michele, che abbiamo alle spalle della nostra azienda.